Oggi è giovedì 19 gennaio 2017, sono ad Acquapartita e sono le 16 di pomeriggio Bellissimo, c'è tutto il lago ghiacciato Questo è il lago di Acquapartita Salve Pionieri anche questa volta del passaggio Lo stiamo aprendo noi per arrivare al lago Spettacolo Giulia selfie Lato opposto del lago Mi sto facendo avanti nella neve farinosa Non ho mai attraversato da nessuno Oh che bella le paperette Mi vengono incontri speranzosi di cibo Ma non ho niente da dargli Niente paper, non si mancia oggi Le mie tracce Tutta questa fatica per fotografare le papere Papere Giulia Giulia Papere Anzi impastricciata Anzi impastricciata Grazie a tutti Grazie a tutti